Sono molto soddisfatta del percorso che abbiamo fatto perché il nostro programma contiene non dei sogni ma dei punti realizzabili dal giorno dopo che saremo eletti. Soddisfazione da parte di Roberta Tarlao per come sta proseguendo la campagna elettorale per le elezioni a Muggia. La candidata a sindaco ha le idee chiare sui percorsi da intraprendere e le urgenze per migliorare alcuni servizi nella cittadina rivierasca. Uno dei punti cardine, sottolinea Tarlao, è rivedere il sistema di raccolta differenziata. Ricordo con molto piacere due incontri online che abbiamo fatto proprio sui rifiuti grazie all'intervento anche del presidente dell'ASA di Tivoli. Quindi abbiamo visto degli esempi concreti, delle buone pratiche che non facciamo altro che copiare sul nostro territorio e soprattutto certi anche degli ottimi risultati. Perché non dimentichiamo che questa differenziata a Muggia che è stata presentata senza tenere troppo conto dell'esigenza dei cittadini va assolutamente migliorata perché noi crediamo che sia proprio un dovere etico fare la differenziata però non può esserci un problema di decoro soprattutto nel centro storico di Muggia. Quindi dobbiamo affinare questo metodo di raccolta ma soprattutto abbiamo visto che ci sono anche dei progetti che si possono fare. Ad esempio mi viene in mente la compostiera di comunità, quindi andare a far sì che il rifiuto diventi una risorsa. Anche la lotta allo spreco alimentare, strettamente connesso al tema dei rifiuti, è un obiettivo che vuole portare avanti Roberta Tarlao. La stessa cosa ovviamente per lo spreco alimentare. Se vogliamo ridurre i rifiuti dobbiamo ridurre anche lo spreco e anche qui grazie a degli ottimi esempi già in vigore in tanti comuni a livello nazionale noi ci occuperemo di sprecare di meno ma soprattutto di aiutare anche le persone in difficoltà che sappiamo che a causa della crisi e ancora peggio con questa pandemia ha fatto sì che molte famiglie non abbiano cosa mettere in piatto. Poi dall'altra parte sapere che con lo spreco riusciremo a sfamare cinque volte tutte queste famiglie sono cose che devono farci riflettere quindi ci auguriamo di poter mettere in pratica tutto ciò al più presto. Grazie a tutti.